Ragazzi siamo appena arrivati Come sono le gambe? Trefizzate? Tutti i nuovi supercazzuti ma vinceremo Andiamo, voci puntati, alla partenza Vi raccomando, rispettate le regole come ha detto il nostro dove Mani su, mani su Vai, vai Insieme, conto, alla partenza Dieci, nove, cinque Pari No, 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 no All the two Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti